Ragazzi, allora, buona giornata a tutti, ben ritrovati in questa mia nuova analisi tattica, dopo tanto tempo siamo tornati, so che vi sono mancate, di solito dall'anno scorso facevo il giorno dopo misto analisi tattica, però siccome ci sono delle situazioni tattiche da valutare, ci sono vari cambiamenti tattici per quanto riguarda la partita di ieri, di ieri, secondo me è giusto soffermarci per quanto riguarda la partita di ieri, appunto, sulle situazioni tattiche, che poi però comunque congiungeremo con alcune cose che ho detto ieri, quindi andiamo subito per quanto riguarda la fase di possesso di ieri all'inizio della partita, praticamente quando sono state messe le formazioni in campo, L'altro giorno vi avevo detto che, sentendo la conferenza stampa, ci sarebbe stato questo 4-4-2 ibrido, che a me non piace, che però Allegri avrebbe messo con Quadrado, Ali, Centrocampo, McKennie, Ala dall'altra parte, in fase di non possesso, ma poi andiamo a vedere che anche in fase di possesso di fatto è rimasto Ala, di Centrocampo, anche Weston, McKennie, quindi praticamente si è centrato poche volte con il sistema di gioco iniziale, La Juventus era partita bene i primi dieci minuti, poi ha avuto della confusione un po' tattica, ma vediamo perché c'è stata questa confusione tattica, allora McKennie non è un Ali Centrocampo, né in fase di non possesso, né tantomeno in fase di possesso, e soprattutto con la, diciamo con l'inizio tattico che abbiamo avuto ieri, Di Maria, che sì, sicuramente è un giocatore che devi lasciare libero da compiti tattici, però è un giocatore che comunque predilige partire da destra, con Quadrado a destra si pestavano molte volte i piedi, noi vediamo qua, che sono praticamente sulla stessa parte del campo, E McKennie dall'altra parte praticamente fa l'Ala di Centrocampo, non fa la mezz'Ala, ok? E poi vediamo un'altra situazione tattica simile, anzi che è proprio ancora più emblematica, se vogliamo dire. La situazione emblematica non è questa, però vi fa capire che Di Maria svaria da destra a sinistra, è libero da compiti tattici, McKennie rimane in fase di possesso molte volte, spesso, appunto, esterno, all'Ala di Centrocampo, E questa cosa a me non è andata giù, e poi vedremo come un po' è cambiata, diciamo, è cambiato l'assetto tattico dopo il cooling break, comunque questa è un'altra situazione, ma adesso andiamo veramente a vedere la situazione più emblematica, che vi fa capire molto meglio. Questa per me è la situazione tattica della prima parte di partita, dei primi 22 minuti, prima del cooling break, con il sistema di gioco iniziale, quindi questo, diciamo, 4-4-2, che poi è asimmetrico, non lo è neanche stato, perché McKennie praticamente ha fatto veramente l'Ala di Centrocampo, anche in fase di possesso, Ma vi fa capire quanto Di Maria e Quadrado in fase di possesso, ok, si pestassero molte volte i piedi, e questa cosa qui poi è stata cambiata, è stata migliorata, con Di Maria molto più libero sotto questo aspetto, poi concedendo anche poi magari a Danilo di fare qualche cavalcato, qualche inserimento laterale in più, avendo appunto Quadrado e Di Maria prima non poteva fare questa cosa qui. In fase di impostazione comunque Danilo aiutava Bremer e Bonucci, Bremer comunque non benissimo in fase, diciamo, di impostazione, e scusate, sì, in fase di impostazione, in fase di iniziazione, Bremer non è, si dice, terribilmente valido, sì, non è scarso, non è Chiellini, però ha sbagliato all'inizio della partita una cosa che ci poteva costare caro, ecco, perché poi dico, andiamo calmi, no, che Bremer gli ho dato 6 e mezzo. Però direi questo, questa situazione tattica all'inizio della partita, secondo me, si è ripetuta tante volte, che ci ha, diciamo, condizionato anche in fase offensiva, in fase di possesso, appunto, in fase di sviluppo e finalizzazione dell'azione. Quindi questa cosa qui poi, per fortuna, per fortuna, è stata cambiata. Io prima della partita dicevo, per me Allegri metterà questo 4-4-2 asimmetrico. Poi, secondo me, io metterei, dato che ha provato in preparazione estiva, quadrato a sinistra e di Maria a destra, proverei questo assetto con McKennie centrale, con McKennie centrocampista, con McKennie mezzala. Che McKennie poi non ha fatto chissà che partita, però da mezzala sicuramente è meglio. Ha fatto questa cosa qui e le cose poi sono migliorate. Questo è giusto per farvi vedere un attimo, in fase di non possesso, con il sistema di gioco iniziale come difendevamo, difendevamo ovviamente con il 4-4-1-1, con Di Maria che comunque tornava, è tornato sempre. Io dicevo, quando è stato preso, non voglio, so che lo farà, però spero di no, Di Maria se lo usa, diciamo, se gli dice sempre di ritornare, che sia un modulo o l'altro, a 34 anni io questo qua non so quanto regga, tant'è che poi anche Allegri ha detto che questo problema che ha avuto, se l'ha avuto anche due settimane fa, a 34 anni, ripeto, l'ho detto ieri, il fisico non è come quello di un 25enne. Quando inizi ad avere problemi, molte volte non la finisci più di averne. Quindi questo è il mio timore, ed è stato il mio timore quando è stato preso Di Maria a 34 anni, non per l'aspetto tecnico, al di là del mondiale a novembre. Comunque questo è il sistema di gioco in fase di non possesso, appunto, che poi anche in fase di possesso era praticamente un 4-4-2 come Kenyala di centrocampo pura, altro che mezzala. Si, entrava più dentro il campo, però di fatto molte volte aspettava il pallone, appunto, come esterno, come ala sinistra. Comunque questa fase di non possesso, con il sistema di gioco 4-4-2 puro, era di fatto in fase di non possesso un 4-4-1-1, con meccanico quadrato. Comunque, Alice dentro il campo che si stringono molto. Questo ho preso la fase di possesso dopo il cooling break, ok? In fase di sviluppo, azione, finalizzazione, azione, c'erano altri punti da prendere, però vi ho preso quella più emblematica, di fatto. E noi vediamo che Di Maria a destra, quadrato totalmente a sinistra, e McKennie, centrocampista centrale, e McKennie, mezzala di inserimento. Quello che deve fare lui. Questo, secondo me, ha risolto parecchi grattacapi all'inizio del post-cooling break, perché qua poi siamo andati a fare gol, tra l'altro, su cross di Alexandro, che io ho alzato mezzo 8 ad Alexandro ieri, per quanto riguarda la partita ieri, perché ha fatto il cross sul gol di Di Maria, poi andremo a vedere anche cosa ha fatto. Però, al di là di questo, quindi gli ho dato 7, qua vediamo che Di Maria e quadrato non si pestano più i piedi, perché quadrato è stato spostato a sinistra, che non è il suo ruolo. Lui è partito sempre da esterno d'attacco a destra, o terzino destro, ok? Ma sicuramente più in ruolo, diciamo, quadrato a sinistra, che McKennie ha la di centrocampo, alla sinistra, piuttosto appunto che quadrato esterno d'attacco a sinistra. E così, secondo me, si sono risolti parecchi grattacapi, sia in fase di possesso, sia in fase di non possesso, anche se poi la fase di non possesso, soprattutto nel primo tempo, non mi è particolarmente piaciuta. E perché non mi è particolarmente piaciuta? Aspettate che metto meglio la cosa, vediamo se riesco, ok, così. Perché non mi è particolarmente piaciuta? Beh, basti vedere, no, qua, che in fase di non possesso, questo 4-3-3 diventava un 4-5-1 con Di Maria, costantemente, che faceva il quinto insieme a quadrato, erano i due quinti praticamente a centrocampo. Questa cosa che non mi piace, perché qua si dice sempre, eh, ma quando usi il 4-3-3 è normale fare in fase di non possesso il 4-5-1. È una grandissima cazzata, perché dovrebbero, anzi dovreste guardarvi un po' il Liverpool, guardarvi un po' il City, guardarvi altre partite, altre squadre, cosa fanno, che giocano col 4-3, loro pressano in avanti, quindi fanno un pressing o offensivo o addirittura ultra-offensivo, quindi i giocatori sono sempre, i due esterni sono sempre comunque in attacco quando vengono saltati. Ogni tanto ritornano sicuramente, ma si occupano le due mezze ali di coprire. Quindi questa è una grande cazzata anche perché la squadra al baricentro è totalmente in avanti, quindi non c'è neanche spazio, diciamo tanto spazio per saltare un pressing e poi avere chissà quanto campo davanti, perché comunque la squadra è corta ma in avanti, quindi questa roba del quando usi il 4-3 per forza diventa un 4-5-1 in fase di non possesso è una grande cazzata, basterebbe guardarsi altre partite di altri campionati, di altre squadre importanti a livello europeo. Se tu fai la fase di non possesso sempre passiva diventa un 4-5-1, Allegri fa una fase di non possesso passiva, c'è poco a fare. Passiva significa che sei attendista, che non fai pressing, che fai una fase di non possesso di posizionamento, non di pressing, e per questo diventa un 4-5-1, ma così spompi costantemente i due esterni, ok? I due esterni di attacco, che in questo caso era un punto di Maria, e Quadrado. Però qua in fase di non possesso vediamo come comunque McKennie fa la mezzala, sia in fase di non possesso, sia in fase di possesso, con questo cambiamento tattico dopo il calling break. Adesso ragazzi vi spiego qua, su quest'azione qua, perché McKennie mi piace. Il gol del 3-0 è dovuto anche a un movimento di McKennie che è stato sottovalutato, che ha portato via un giocatore non solo a Vlaovic, che poteva potenzialmente contrastarlo in un secondo momento, ma soprattutto a Di Maria, perché l'ha liberato per il tiro, perché il giocatore lì, il terzo se non sbaglio, cioè l'altro difensore centrale praticamente, chiude su Di Maria, ma chiude in ritardo, perché si aspettava un'altra chiusura dell'altro giocatore che porta via Weston McKennie. Questo è, cioè queste sono le caratteristiche, quando bisogna sfruttare i giocatori per le caratteristiche che hanno, se non sei bravo a dare te altre caratteristiche ai giocatori e altre nozioni tattiche ai giocatori, questo è Weston McKennie. McKennie non può palleggiare, ok? Non può fare quello che verticalizza, non può palleggiare e tante altre cose, ma è un giocatore che deve essere servito sui movimenti che crea lui, che fa lui. Weston McKennie deve avere, secondo me, due giocatori tecnici, uno davanti a difesa, tecnico, con i piedi che si sappia fare con i piedi, per me Locatelli lo può fare, e un'altra mezzalla tecnica che possa verticalizzare. Non può essere che tu abbia a centrocampo due mezziali come McKennie e Zaccaria, non si può neanche pretendere che facciano calcio questi due giocatori, sinceramente. Locatelli, tra l'altro, discusso, molto discusso, mi sono riguardato appunto qualche spezzone della partita di ieri, però ha fatto delle aperture molto interessanti. Bisogna dire anche questo. A me Locatelli, sapete, non piace, però vedo tanto accadimento, Locatelli non può giocare davanti a difesa. Locatelli può giocare davanti a difesa, per me è più un incontrista che un centrocampista d'ordine, ha i piedi per giocare davanti a difesa, se viene accompagnato da una mezzalla però di qualità che lo aiuti in fase di iniziazione e di sviluppo dell'azione. Se lui viene lasciato al suo destino, è normale che anche come Bentancur, ma anche un giocatore bravo come Modric, può fare tante finte di colpo, quello che volete, ma avrà comunque dei problemi. Modric qui in Italia giocherebbe davanti a difesa, mentre a Real Madrid ha giocato sempre da mezzalla d'ordine, ad esempio. È il problema, è il concetto qui in Italia, cosa si vede ancora, no? Il calcio antico con il regista per forza, c'è un compista d'ordine davanti a difesa, e non un incontrista con due mezzali tecniche. Questo è il discorso. Locatelli per me può giocare lì, se hai due mezzali però con i controcoglioni a livello tecnico di fianco. Tra l'altro ieri ho visto anche i contropiedi, le transizioni positive, fatte bene dopo il cambiamento tattico. Questa è un'azione nella quale non abbiamo attaccato in tanti, abbiamo attaccato in tre, ma abbiamo fatto i passaggi giusti con la velocità giusta. Questo tra l'altro nasce da un'apertura proprio di Locatelli per Danilo, anzi per Di Maria che poi la passa a Danilo, che poi la crossa in mezzo e Blaovic va di destro, ma la tira fuori. Però tutto con i tempi giusti, con la velocità giusta, che ti ha portato al tiro in tre, quattro passaggi. Cioè questo bisogna fare, o riempi l'area o mandi avanti tanti giocatori, ma anche con tre giocatori, se fai i movimenti giusti, le giocate giuste, con la velocità giusta, puoi creare veramente tanti grattacappi alla difesa avversaria in fase di transizione positiva tua. Ecco l'altra giocata, molto semplice, ok? Che però mi ha fatto alzare il voto al signor Alexandro. Questo è stato un rilancio di Perin, ok? Quindi non è stato un contropiede, non è stata una transizione positiva, è stata un'inizio azione nostra con lancio di Perin, apertura di Perin per Alexandro, che Alexandro con due tocchi stop e verticalizzazione per Blaovic, poi lancia appunto Blaovic in profondità, e questa è l'azione nella quale il signor Dusan Blaovic si procurerà il calcio di rigore. Tra l'altro Alexandro a inizio della partita si sarebbe procurato un altro calcio di rigore, che per me poteva starci. Ieri Alexandro veramente, sugli scudi secondo me, è molto buona la partita di Alexandro. Gli ho alzato punto di mezzo voto, gli ho dato 7 anche per questa azione qua, che non sono state prese in considerazione. Il cross per Di Maria, che bravo Di Maria, però comunque il cross era molto importante, molto diciamo tagliente, molto pericoloso. E il lancio per Blaovic, quindi due giocate che secondo me gli fanno alzare giustamente il voto. Questa è appunto un'altra cosa da far notare nella partita di ieri. Questa è, scusate che vi faccio vedere meglio magari, allora, questa è l'azione del gol, del terzo gol nostro. Quando dico che il pressing offensivo o ultra offensivo ti può portare solo che benefici, soprattutto in un calcio nel quale molte squadre, la maggior parte delle squadre comunque inizia dal basso, il calcio, cioè praticamente l'inizio dal basso dell'azione è dovuto anche al fatto che hanno levato la regola che il difensore doveva aspettare il pallone fuori aria. Quindi questa cosa contribuisce a iniziare l'azione dal basso anche delle squadre che non fanno chissà che calcio. Però questo è stato un pressing che loro sicuramente hanno sbagliato, perché qua poteva passare la destra invece che fare la stronzata e passarla in mezzo. Qua sembrava il peggior Alexandro, ad esempio, che ha fatto una cazzata anche lui così come Arthur, no, queste stronzate qua, con Di Maria che ne ha approfittato. Però comunque, non dico che li hai portati all'errore perché qua probabilmente c'è più ingenuità loro, però il pressing è alto, anche il centrocampista che poi non si vede vicino all'arbitro dall'azione si vede che viene comunque tamponato Locatelli, hai alzato il baricentro, hai alzato il pressing, con un pressing comunque ultra offensivo, ok, e che li hai portati all'errore, c'è poco a fare. Li hai portati all'errore fino a un certo punto, li hai condizionati, ecco, li hai condizionati, loro potevano sicuramente fare scelte migliori, hanno fatto scelta peggiore, ma semplicemente perché tu hai ridotto le loro soluzioni, ok, le loro soluzioni di passaggio e quando tu riduci le loro soluzioni di passaggio all'avversario si alzano le percentuali di errore da parte dell'avversario, soprattutto se questo avversario sta solo, non è il Barcellona, non è il Madrid. Quindi questo peccato che abbiamo fatto solo i primi 5-10 minuti così nel secondo tempo a livello di pressing perché si facesse con più continuità, vedreste che probabilmente faremo molti più gol così con recupero palla nella metà campo avversario, non solo per forza da errore difensivo, ma anche da un errore del centrocampista con il pressing dei centrocampisti nostri, non per forza con gli attaccanti, ok? Se alzi tutta la squadra e se alzi tutto il pressing della squadra, soprattutto se hai in squadra, siccome un giocatore come Bremer, come era dell'It, che per me tu devi con questi giocatori qua alzare il baricentro per forza, secondo me. Se lì tieni sempre nella propria metà campo, nella propria area di rigore soprattutto, prima o poi la cazzata te la fanno. Lasciate stare ieri, che erano avversari ovviamente, fino a un certo punto, cioè, di un livello basso, in questo momento qua, perché hanno perso anche contro il Modena, senza sminunire la nostra vittoria, però è giusto per farvi capire. Una cosa, anzi due cose che non supporto di Allegri, finiamo e chiudiamo qui, sono, è questa situazione di gioco, cioè, lui fa schiacciare molto i giocatori, molto i difensori, verso il centro, tant'è che poi facendo questa cosa qui, a volte deve far scalare per forza un esterno d'attacco a livello dei difensori, o un'area di centrocampo a seconda del sistema di gioco che sta usando. Perché, allora, molte squadre comunque schiacciano, ma non come fa Allegri, cioè, questa è una cosa allucinante, poi vedremo anche tra poco, ad esempio, Kostic, però vi fa capire che, cioè, questa roba qua, siccome ti schiaccia troppo e molte volte ti schiaccia anche all'indietro, e molte volte prendiamo un gol su passaggio dentro l'area di rigore, come è successo con Real Madrid, perché ci schiacciamo troppo nella nostra area di rigore, a volte anche piccola, per vie centrali, soprattutto. Questo, per me, è un limite che ha Massimiliano Allegri sotto questo aspetto. Poi, chiudiamo, ragazzi, con il 5-4-1 finale, con la difesa 5, però, non dico da attenuante, però, il beneficio e il dubbio, comunque, diciamo che non è una difesa 5 pura, perché, se noi guardiamo qui, Kostic tiene la marcatura Duomo su Toyan, Toyan, come cazzo si pronuncia, ok? Quindi, per questo, poi, molte volte, l'ala di centrocampo, con Allegri, purtroppo, scende, o l'esterno d'attacco scende, sulla linea, appunto, di difensori, perché a volte, o molte volte, l'esterno d'attacco, o l'ala di centrocampo, in fase di non possesso, deve marcare, a Duomo, l'altro esterno, o l'altro terzino avversario. Quindi, questo porta, poi, ad abbassarsi a livello di difensori, ma non è una difesa 5 pura, è una difesa 4, è sempre stata una difesa 4 ieri, alla faccia di chi diceva che avremmo fatto la difesa 3, la difesa 3, in fase di non possesso, difendi sempre a 5, ieri abbiamo difeso sempre a 4, a parte, appunto, questi ultimi 5-10 minuti. Quindi, questo, questa è un po' la situazione della partita di ieri. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per questa attenzione, questa cortesa, attenzione, scusate, per la durata del video, spero che non vada, che vada tutto bene sull'editing, diciamo. Ditemi la vostra cosa ne pensate di questa analisi tattica, cosa avete visto anche voi, che magari mi è sfuggito a me. Niente, ci vediamo al prossimo video, alle prossime live, con la Juventus Scream in generale. Ciao a tutti, sempre e comunque, fino alla fine, Forza Juventus!